Primi giorni di lavoro per il bar di Michele Mignani nel ritiro di Storo, il cartello virtuale in evidenza, rimane però quello del working progress con tante operazioni ancora da fare per il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito, che dopo aver definito gli arrivi in maniera ufficiale di Chedira e Derrico, è ormai prossima alla chiusura dell'affare che porterà Belli a vestire il biancorosso e Berra nella stessa operazione a indossare il nero-azzurro del Pisa per un'operazione che riguarda le corsi esterne. E' molto vicino anche lo svincolato Antonio Mazzotta che andrebbe a prendersi il posto sulla corsia mancina. Si lavora a una soluzione viennale e le parti sono molto vicine affinché la trattativa possa sbloccarsi nei prossimi giorni. Piace anche Salvatore Monaco, difensore ex Perugia classe 92, che si è svincolato dagli Umbri e piace al direttore Polito. Anche qui c'è già stato un contatto tra le parti e si sono avvicinate nelle ultime ore. In uscita l'unica trattativa da segnalare è quella che porterebbe De Rizio al Pescara, formazione allenata proprio da Uteri. Anche la gente si è detto in un'intervista ottimista per la conclusione dell'affare. Dal campo invece arrivano le prime indicazioni. Ieri la partitella con le due squadre schierate con il 4-3-1-2, modulo su cui sta nascendo la formazione di Mignani, sugli scudi di Enrico, Terrani, Nannini e Antenucci, con il ritiro che rappresenta un'occasione per chi vuole rilanciarsi e per chi alla fine potrebbe rimanere nonostante tutto ancora in bianco-rosso.